Benvenuti in Danimarca con Business Planet. Andiamo a scoprire una rete che aiuta le imprese a lanciarsi sui mercati internazionali. Si chiama Lean Landing Project. MES, ci spieghi come funziona. È un progetto che permette alle imprese di testare il loro prodotto sul mercato, di ottenere informazioni dal mercato, di incontrare nuovi partner. In questo progetto abbiamo 19 partner fra acceleratori e incubatori in sei paesi. Norvegia, Svezia, Germania, Olanda, Regno Unito e naturalmente Danimarca. Andiamo subito a incontrare un imprenditore che avete aiutato. Seguiteci. Corsi di comunicazione usando realtà virtuale e strumenti innovativi come le telecamere a 360 gradi. L'obiettivo è di preparare questi giovani a dare il meglio di sé nelle presentazioni orali o nei colloqui di lavoro. Un approccio quasi unico in Europa. L'idea è partita da una PMI danese, ma molto presto i dirigenti hanno capito che poteva funzionare altrove in Europa. Grazie a Lean Landing sono riusciti a entrare nel mercato britannico. Il sistema ha rimborsato le spese di viaggio, ma ha anche permesso loro di entrare in contatto con partner e potenziali clienti il tutto in pochissimo tempo. Fondamentalmente abbiamo dovuto fare una ricerca di mercato. Ho imparato molto, è stato fantastico studiare che cosa potessimo immettere in quel mercato, quale fosse il nostro punto di forza per poter penetrare nel mercato britannico. E i risultati ci sono. Jacob ha imparato a padroneggiare la sottigliezza del mercato britannico e ora può centrare la sua strategia sui bisogni specifici dei suoi nuovi clienti. Siamo andati per la prima volta nel Regno Unito a gennaio. Ci siamo tornati alcuni mesi dopo e abbiamo avuto il nostro primo cliente nel novembre 2017. E ora che abbiamo testato il mercato ci piacerebbe espanderci nei prossimi anni e magari aprire un ufficio sul posto. Rieccoci qui, MES. Abbiamo visto questo esempio, ma naturalmente ce ne sono molti altri. 90 imprese hanno già partecipato al programma e ne abbiamo più di 100 che stanno per entrarci. Quest'iniziativa danese si è aggiudicata il Premio Europeo per la promozione dell'imprenditorialità che viene assegnato dalla Commissione dal 2006. Il premio ha già dato visibilità a più di 3500 progetti europei, a loro volta all'origine della creazione di migliaia di PMI. Una domanda molto pratica. Com'è possibile contattarvi? Innanzitutto è gratis, quindi se siete interessati contattate uno dei nostri partner. Troverete tutti i nomi sul nostro sito. Molte grazie, MES. Troverete tutte le informazioni anche sulla pagina web di Business Planet e sulle nostre reti sociali. A presto.